Ciao a tutte ragazze, non mi faccio vedere completamente perché in questo video parleremo di prodotti per le unghie perché ho fatto un ordine su Passione Unghie e ho ordinato un bel po' di colori, sono circa 19 colori e perché voglio rinnovare tutto il mio range colori per quanto riguarda il semi permanente ma anche il gel per il momento ho ordinato un gel mentre tutti gli altri sono tutti semi permanenti aspettate, ok, ho messo il silenzioso al cellulare quindi possiamo continuare con il video allora, l'ommaggio che mi hanno mandato è questo qui di questi brillantini rosa fluo molto carini loro mandano sempre questo omaggino qui ad ogni ordine anche se questo qua è stato abbastanza anche se questo ordine è stato abbastanza consistente quindi ci sono un sacco di cose allora, come prima cosa vi mostro questo colore che è l'unico color gel che ho preso perché poi gli altri sono tutti semi permanenti e questo qua è A110 Glitter, Chrome e Pink e sono in questa boccettina qui, molto carina allora, sia i semi permanenti che i gel di passioni unghie mi piacciono un sacco ragazzi quindi come colori sono il top questo è il gel vedete qui è bellissimo è un dual chrome tra il dorato, rosa, bellissimo tra l'argentato e il rosa stupendo che vediamo un po' a breve mi vedrete usare sicuramente magari vi farò dei video per Instagram non lo so, vediamo un po' o per TikTok ma vi metto il link sia di Instagram che di TikTok giù nell'info box in modo che potete andarmi a seguire su entrambi i profili e ora inizio per farvi vedere i colori semi permanenti sono un bel po' si presentano in questa scatolina tutta nera con il pack tutto nero molto interessante con il riquadro aperto in modo da poter vedere il colore di qua ora vi apro un po' i colori e ve li faccio vedere allora inizio per mostrarvi i colori il primo che vado a mostrarvi è questo qui che si chiama Amor ed è SP129 ed è questo bel colore qua un fucsia ciclamino molto 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 carino allora io ve le mostro sulla tip visto che ne ho solo 6 vado a mostrarvelo senza asciugatura in lampada perché sono rimasta senza tip e mi sono dimenticata di ordinarle e quindi devo andare a prenderle appena appunto le prendo li stenderò tutte e le farò asciugare allora questo è il fucsia molto carino e sia invernale che estivo non c'è una stagione in cui preferisco mettere il fucsia ma anche le mie clienti lo usano sia questo tipo qua specialmente questo tipo qua di fucsia sia in inverno che in estate poi c'erano anche alcune offerte sui semi permanenti alcuni li ho pagati 3,99 euro ma non ricordo quali quindi non vi so dire bene il prezzo comunque dai 3,99 euro ai 7,99 questo è il prezzo dei semi permanenti 7,99 ovviamente quelli là che non sono in offerta quelli che sono in offerta invece costano 3,99 euro poi ho preso Dexter SP66 che è questo rosa bellissimo rosa fucsia acceso questo qui invece lo vedo al 100% estivo cioè in inverno comunque le mie clienti non lo applicano perché è un fucsia un fragola acceso come vedete questi due colori sono coprenti alla prima passata e diciamo che il pregio che hanno questi colori di passione unghie è che sono coprenti alla prima passata solo alcuni colori sia di gel che di semi permanente ovviamente con la seconda passata viene un po' più omogeneo poi ho preso il Qt P che è questo colore qui ed è l'SP241 ed è un color non so come descrivervelo però è stupendo ragazzi per l'estate con l'abbronzatura è davvero bellissimo è un albicocca pastello ora ve lo faccio vedere ed è pesca albicocca davvero carino ed è ovviamente al 100% estivo questo colore guardate qua che bello stupendo ragazze stupendo 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 un bellissimo colore poi li rimetto nelle scatoline perché voglio fare qualche TikTok dove li spacchetto quando avrò tempo ovviamente poi ho preso questo qua che è stupendo ragazzi come l'ho visto l'ho preso subito ma non per le clienti ma per me proprio perché so che comunque il mio range clienti che colore utilizza di più quindi questo qua è un colore un po' particolare che non tutte le clienti amano però io lo adoro e si chiama Sky SP17 ed è questo bel blu stupendo io di semipermanenti di passione unghie sempre con il blu ho il Titanic che è un blu scuro un blu notte molto carino questo qua è un po' più chiaro ed è proprio un blu elettrico perlato guardate qua stupendo con un'unghia un po' più lunga magari con un'unghia ricostruita è stupendo penso che il prossimo colore che useremo magari se le faremo insieme in un video poi non si mette poi ho preso fragola flash che mia mamma come l'ha vista ha detto no no mi devi fare questo mi devi fare questo cioè veramente mia mamma ha visto tutti i colori perciò già sono aperti li ha voluti vedere e ad ogni colore che aprivo se lo faceva provare sull'unghia faceva no no questo me lo devi fare un altro colore no no questo me lo devi fare vabbè sono sempre così le mamme ora vi mostro questo qua questo qua è un brillantinato molto carino già la prima passata è top guardate qui bellissimo questo qua lo potete usare sia su un su un solo dito sia su un non so partendo facendo l'effetto goccia partendo da giù fino a metà con l'effetto goccia potete fare tipo un unghia il french un unghia questo questo colore poi altre tre di un solo colore ci sono varie idee poi magari seguitemi sui social che vi linko nel nell'infobox e vedrete un po' tutti i colori utilizzati poi ho preso kiss che questo qua me l'aspettavo diverso perché lo vedevo un po' più rosso però è più un rosso arancio un corallo guardate è proprio un corallo ora ve lo mostro sulla tip ed è molto acceso ed è ovviamente molto 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 estivo ragazze non è un colore assolutamente invernale ovviamente ho preso alcuni colori che vanno bene sia in inverno che in estate ma molti sono soprattutto per per l'estate perché comunque sono i mesi in cui le clienti adorano spaziare con i colori e devo dire la verità anche se si sono perfette magari la cliente vuole cambiare colore tipo ogni due settimane perché deve spaziare con i colori deve cambiare outfit deve fare questo deve fare quello quindi preferisce farle spessissimo cosa che in inverno aspettano tipo quattro quattro settimane un mese e una settimana cioè quattro cinque settimane per rifare il tutto in estate boom lo vogliono fare tipo ogni due tre settimane ovviamente perché devono cambiare colore allora io vado a togliere questi colori dalle tip e procedo con mostrarvi altri colori ecco qui iniziamo con mostrarvi questo qui latin lover è un colore che già ho ed ho utilizzato un sacco di volte infatti alcuni clienti utilizzano solo ed esclusivamente questo rosso perché è un bellissimo è una bellissima tonalità di rosso corallo molto interessante e va bene cioè questo qua va bene sia d'inverno che d'estate anche vabbè la maggior parte me lo utilizza d'estate però alcuni clienti lo amano anche d'inverno ed è un colore straordinario eccolo qua guardate che bel rosso un bellissimo rosso corallo che va bene ovviamente sia d'inverno che d'estate poi dipende anche dai gusti della cliente e questo è uno dei colori che utilizzo di più infatti l'ho ripreso per la terza volta perché lo amano veramente tantissimo le clienti poi ovviamente il rosso è il rosso le clienti ogni volta che vengono faccio che colore vogliamo fare? sono indecisa tra il rosso e un altro colore ma il rosso è il rosso quindi si fanno intorno sempre il rosso si fanno a fare questo invece è Lolita che è un rosa nude particolare ora vi faccio lo swatch guardate che bello è un tipo di rosa è un rosa antico particolare non quelli las morti diciamo ma un po' più acceso e lo vedo bene nel periodo primaverile anche con un po' di abbronzatura però questo qua lo vedo bene più nel periodo primaverile anche nel periodo autunnale magari tipo settembre ottobre questo qua va ancora bene ecco tutto il tappo non vedo l'ora di acquistare altri tip in modo da metterli tutti su tip e mostrarli poi ovviamente alle clienti che ci metteranno una vita per scegliere il colore però allora poi ho preso seduction che è questo bellissimo fucsia perlato con dei riflessi oro guardate è perlato con alcuni riflessi oro stupendo 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 questo qua lo vedo sia invernale che estivo dipende anche dai gusti appunto della cliente io ad esempio se devo usare con i colori uso pure in inverno devo dirvi la verità non metto magari qualcosa di fluo però se in quel periodo mi va di usare qualcosa di colorato anche in inverno l'utilizzo poi abbiamo superba ho preso un botto di fucsia perché in questo periodo il fucsia è quello il colore un po' più utilizzato guardate qua stupendo e questo è un vero e proprio fucsia questo l'ho preso perché comunque mi è terminato il fucsia classico il fucsia nel fragola diciamo e quindi l'ho voluto prendere perché lo fanno lo fanno spessissimo questo tipo di colore me lo fanno a volte anche in inverno questo colore qui anche se è più estivo però molti clienti lo preferiscono anche in inverno poi abbiamo il coral baby che è favoloso ed è prettamente estivo perché è un rosa proprio estivo un rosa baby spettacolare un po' più scuro di questo qui del secondo di quest'altra riga ed è favoloso non vedo l'ora di far rivedere alla cliente alle clienti questi colori ovviamente non vedo l'ora anche di usarli io però ho dei corsi di massaggio quindi penso che rimarrò con i semi permanenti che ho fatto la settimana scorsa insieme a voi e poi dopo aver fatto i due corsi di massaggio potrò sbizzarrirmi con la ricostruzione e altre cose interessanti poi ho questo qui ho preso hollywood questo qua ne ho sentito parlare e l'ho visto varie volte ed è stupendo guardate qua è un fluo esagerato un fucsia fluo bellissimo e quindi l'ho preso me ne sono innamorata da tutti i video tutti i video che l'hanno mostrato cioè è un fucsia corallo strastraessivo vedete qui favoloso magari un french con questo è stupendo french oppure un baby boomer con questo colore che ve lo dico a fa tra questo colore e un rosa un po' più chiaro sarà bellissimo poi vabbè faremo anche delle prove insieme ora vado a pulire le tip a togliere il colore e passiamo agli ultimi sei colori rimasti torno subito eccomi qua con gli ultimi sei colori il primo che vado a mostrarvi è uno di quelli che ho detto wow stupendo ed è questo qua che si chiama rodeo ed è ed è questo qua stupendo è un azzurro io come l'ho visto ho detto azzurro napoli perché qui siamo tifosi del napoli quindi è un azzurro che cercavo da un pochino di tempo perché un azzurro così non l'avevo mai trovato non l'ho mai trovato come l'ho visto l'ho preso ho detto ho detto no no lo devo prendere devo vedere assolutamente com'è oggi mi è arrivato il pacco stamattina sono andata al lavoro poi sono tornata ho detto devo aprire il pacco devo vedere chi ci sta devo vedere i colori da vicino come ho aperto questo ho detto è azzurro napoli proprio stupendo come il cielo e il mare guardate qua belli cioè non ho mai trovato un colore così azzurro così coprente è così spettacolare stupendo già alla prima passata sono tutti super coprenti fino ad ora veramente wow poi ovviamente sulla tip è sempre difficile vedere la coprenza perché comunque appunto sono tip e quindi si tende sempre a vedere al di sotto mentre con l'unghia naturale è un po' più difficile è più facile vedere la coprenza ma già dalla tip si vedono che sono molto omogeni e coprenti poi ho preso princess che se non mi sbaglio è un rosa baby ora vedo si è un rosa baby un rosa barbie proprio spettacolare bellissimo ragazzi un rosa barbie non c'è niente da dire sta bene anche con l'azzurro io sarei capace di fare una mano azzurra e una mano rosa in questo momento bellissimo però no dai non è tanto per la quale anche se io tipo due stati fa feci una mano verde fluo e un'altra arancio fluo non so come mi è saltata in mente sta cosa però l'ho fatto ragazzi ho fatto due mani diverse però vabbè se non lo faccio a 20 anni a quanta già fa? 50 ma anche a 50 60 si può fare sta cosa comunque poi l'altro colore si chiama Femme Fatale questo colore è un altro colore che ordino per la terza volta perché lo fanno sia in estate che in inverno ininterrottamente e per esempio se una cliente già l'ha fatto e viene che lo deve togliere se lo rifanno cioè è una cosa assurda con questo colore ve lo faccio vedere guardate qua è una fragola ciliegia poi vi faccio vedere anche sulla tiglia questo qua ad esempio io preferisco sempre fare due passate perché mi viene più omogeneo con due passate perché lo vedo un colore leggero e con una passata ovviamente anche su lunga si vede la lunetta quindi preferisco andare con due anche se la cliente delle volte alcune clienti mi dicono esplicitamente farne una di passata consigliami un colore coprente così ne facciamo una perché mi piace più una passata però io di solito ne faccio sempre due di passate per essere sicura della stesura e della coprenza comunque questo colore è fame fatale ed è stupendo adatto sia in inverno che in estate stra utilizzato anche io l'ho fatto varie volte l'ho rifatto pure io è veramente molto interessante questo colore poi pretty woman e già il nome è stupendo ed è questo qua un altro fucsia più chiaro degli altri anche esso diverso guardate bellissimo ho preso varie sfumature di fucsia e di rosa di corallo perché ora vi mostro qualche color qualche corallo due color corallo se non mi sbaglio e ovviamente qualche russo perché sono quelli là che appunto utilizzano io scelgo i colori in base a quello che mi utilizzano perché comunque devo andare su standard perché se no se prendo colori che piacciono solo a me magari alle clienti non piacciono non li utilizzo cioè che li utilizzo solo per me poi mi faccio vedere fucsia fluo glitter bellissimo 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 rosa barbie fluo bellissimo con i glitter per lo più con glitter la bellezza di questo colore guardate qua stupendo poi i brillantini sono molto colorati all'interno e poi abbiamo l'ultimo colore sistema un attimo questo qua volevo prendere anche il giallo glitter però poi ho desistito ho detto no non lo prendo magari se vuoi me lo chiedono li prenderò in futuro volevo prendere l'arancio l'arancione e il giallo e anche il verde però ho detto no vabbè non lo prendo poi ho preso coral fluo glitter bene questo è un color corallo fruo glitterato bellissimo questo per esempio non ho resistito e l'ho preso perché è bellissimo magari fare tutte le unghie color corallo e poi applicare questo su uno o due dita bellissimo io l'ho visto lo vedo lo vedo bene anche con qualche nail art con le palme poi poi vabbè vi dirò un paio di idee e questi sono i colori sì abbiamo finito ragazzi sono state una marea di colori ho preso però ovviamente aspettatevi altri video sui colori perché ne prenderò altri mi sa che per quest'estate starò bene con questi se poi mi chiedono qualche colore particolare che non ho lo vado a prendere però per il momento va bene con quest'ordine anche perché ho speso 140 euro ragazze e non mi sembra il caso di acquistare altro per questo mese poi magari nel mese prossimo ci sarà qualche offerta in più usi i colori prenderò qualche set o qualche offerta così poi vi aggiornerò io vi saluto spero che vi sia piaciuto il mio video haul per quanto riguarda Passione Unghie e iscrivetevi al canale e io vi mando un bacio e al prossimo ciao ciao